Sabato scorso abbiamo raccolto le 100 firme, al dire la verità, ne abbiamo raccolte 150 in due ore e mezza per poter partecipare ufficialmente alle primarie di centrosinistra che si terranno il 7 aprile. In tutti i seggi vedete i volantini che girano per capire in quale seggio potrete votare anche voi. E adesso domenica 24 marzo alle ore 11 e 30 presso il Deor del Caffè Centrale presenterò ufficialmente la mia candidatura ma soprattutto presenterò F. Che cos'è F? È il progetto di lista civica che mi appoggerà in questo percorso e che poi proseguirà fino al 9 giugno. Stiamo costituendo un gruppo di persone appassionate, ragazzi di ogni età per avere una città maiuscola. F una città maiuscola, questo è quello che vi presenteremo domenica 24 marzo alle ore 11 e 30. Partecipate, venite e ascoltate e poi se non vi dovesse piacere quello che ascoltate almeno potete farvi una buona colazione, un buon aperitivo. Scherzi a parte, quello che contraddistingue F e quello che ci vuole per avere una città maiuscola è una determinazione, una visione di una città che possa volare alto ma con il sorriso sulla bocca. Tante professionalità, tante persone interessate e appassionate e potrete essere anche voi parte del gruppo se vorrete. Ovviamente la libertà è la prima cosa. Partecipate e venite a conoscere F per avere una città maiuscola. La libertà è la prima cosa.